Ragazzi sono il piccolo Ruby e sono qui per parlarvi di violenza sulle donne attraverso i libri. Voglio consigliarvi 5 libri che parlano di violenza sulle donne e i rispettivi film. Allora il primo libro che io vi consiglio, che vi ho recensito qualche tempo fa, è Rose Mudder. Rose Mudder è un libro che parla di violenza sulle donne. La cara Rose viene picchiata a sangue dal marito e il marito trae piacere nel fare questo. È un marito sadico, è un marito che prova in qualche modo piacere e trova qualsiasi pretesto per picchiare la moglie. Ma non si tratta solamente di uno schiaffo o un pugno, ma la picchia proprio in maniera molto pesante da mandarla all'ospedale. Un giorno Rose Mudder decide di ribellarsi a tutto questo e incomincerà poi la sua rinascita. Ovviamente poi ci saranno delle parti paranormal che secondo me potevano anche non esserci, però è un libro che vi consiglio. Il secondo libro che vi consiglio è Dolores Claiborne, anche questo ve l'ho recensito, è un libro veramente molto bello. È un libro che parla di una donna che subisce violenza dal marito, continuamente ubriaco, ma da questa violenza scaturisce poi un qualcosa, una vendetta, ma verrà a scoprire anche dei lati abbastanza agghiaccianti che riguardano il padre e la figlia. Ma di questo io non posso parlare perché entrerà nel merito del romanzo e vi farei spoiler. Vi consiglio di guardare anche il film L'Ultima Ecclissi con Susan Bates del 1990 perché è veramente molto bello. Diciamo che il film dà un valore aggiunto a quello che è il libro. Un altro romanzo sempre di Stephen King che vi consiglio è Il gioco di Gerald. Qui si parla di violenza, si parla di violenza da parte del marito e si parla di violenza anche da parte del padre. La cara protagonista viene legata al letto dal marito Gerald che muore. Lei rimane legata al letto e a un certo punto si ripercorrerà tutto quello che è stato il matrimonio con Gerald ma anche quello che è stato il rapporto con il padre. I due romanzi ovvero Dolores Claiborne e Il gioco di Gerald sono collegati tra di loro proprio per questa Ecclissi totale di Sole. È un libro che vi consiglio veramente di leggere anche se ci sono delle parti un po' pesantucce. Vi devo dire la verità però è un libro che merita assolutamente di essere letto. Il quarto libro che vi consiglio, terzo o quarto non mi ricordo, comunque il prossimo libro che vi consiglio è Vergogna di MJ Cortez. È un autore sudamericano ed è un autore che descrive la violenza sulle donne, molestie sessuali, queste molestie che poi scottunieranno in una denuncia da parte di questo professore David. Ovviamente il tutto avrà delle conseguenze sia in campo lavorativo che in campo affettivo perché diciamo che il destino si riprenderà una sua rivincita. È un romanzo veramente molto toccante ma la particolarità di questo romanzo è che comunque lui non prende le parti di nessuno. Cioè lui non trova delle giustificazioni per quello che ha fatto il protagonista, non trova neanche delle giustificazioni per una violenza. Come per dire sì vabbè te la stai cercata perché ti presentavi con la minigonna, ammiccavi, facevi ammiccamenti e quant'altro. È stato veramente molto brutale l'autore per quanto riguarda questo tema ed è stato anche brutale nel punire poi il protagonista. È un libro che io vi consiglio assolutamente di leggere, sono 200 pagine ma sono veramente 200 pagine molto intense. Un altro romanzo che io vi consiglio di leggere è It. Io non l'ho finito ancora però It parla anche lui di violenza sulle donne. La cara Beverly che subisce violenza dal marito e subisce anche violenza dal padre. Anche lei come Dolores Claiborne e la cara Rosemadder si ribellerà a questo potere insano, a questa violenza gratuita. Questi sono i libri che io vi consiglio di leggere, sto anche sputando. Fatemi sapere voi quali sono i libri che parlano di questa tematica. Magari vi farò anche una recensione, non lo so. Comunque se ci sono anche altri titoli fatemi sapere. Io vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!